Il protagonista, Elton Ogebore, con la maglia numero 28, il gol è arrivato al 28esimo del secondo tempo, insomma era tutto scritto, protagonista della partita, hai sfruttato un bel passaggio in diagonale di Russo e subito hai colpito e poi hai spiorato anche un secondo gol. Ecco, come eleggere questa partita che si è messa anche... e poi è diventata difficile? Ha ragione, però adesso devo ringraziare a Dio perché questa partita ci serve questa vittoria, perché da due sconfitte, un pareggio, ci serve una vittoria per stare mentalmente bene con la testa. Adesso devo ringraziare i miei compagni di squadra che abbiamo lottato ogni allenamento, gli impegni che abbiamo fatto. Devo ringraziare il misto pure, che se non mi ha chiamato, che ero a Lazio, se non mi ha chiamato da venire qui a Mazzarese, non penso di venire. Devo ringraziare a tutti, dico a tutti, perché questa partita ci serve questa vittoria, ci serve. Ecco, la Mazzarese fin dall'inizio ha messo in difficoltà nuova città di Gela, vi è mancato soltanto il gol, però, ecco, serviva più concretezza lì sotto, no? Serve chiudere prima alcune partite per non rischiare. Ecco, cosa vi siete detti con i compagni? Allora, non abbiamo detto niente, solo che il misto ha detto che dobbiamo lottare, dobbiamo andare sempre, non dobbiamo mollare mai, dobbiamo andare fino alla fine, che se rilenziamo un po' possiamo perdere questa partita. Quindi abbiamo fatto quello che ha detto il misto, grazie a Dio il gol è arrivato e abbiamo vinto.